Il nostro obiettivo è non interrompere i servizi sociali e fino ad oggi ci siamo riusciti, spiega l'assessore alle politiche sociali Nina Santisi, che chiede ai dipendenti delle cooperative un po' di pazienza perché entro domani la situazione potrebbe sbloccarsi. Gli stanziamenti del comune a favore delle cooperative sono fermi al mese di agosto, qualcuno ha anticipato i soldi di tasca propria ma per altri dipendenti gli stipendi sono al palo ormai da parecchi mesi. Una circostanza questa che a differenza di quanto accaduto già parecchie volte ne è passato quando il comune pagava e le cooperative no, scarica su palazzo Zanca tutte le colpe di un previsionale ancora da provare. Ieri il segretario delle donne ha rassicurato i comunali, oggi è fissato un incontro tra i vertici delle cooperative e l'assessore Signorino. Insomma c'è un impegno, un sentimento di responsabilità, ma dico diffuso dell'amministrazione ovviamente intanto a garantire i servizi. È chiaro insomma che noi un po' paghiamo questa problematica connessa alla previsionale 2015. Oggi nel pomeriggio noi incontreremo insieme anche all'assessore Signorino, al dirigente del dipartimento, il dottore Zaccone, i presidenti delle cooperative e cercare di capire ovviamente come possa migliorare questo processo. Intanto la CGL mantiene un presidio a Palazzo Zanca. La promessa è quella di risolvere la situazione entro domani ma intanto una piccola delegazione di lavoratori fa sentire il fiato sul collo all'amministrazione. Domani aspettiamo delle risposte definitive dal vice sindaco, dal dottore Cama e quindi se non prima ci saranno queste risposte noi saremo qua a sorvegliare, avranno l'incubo dei servizi sociali.